Cristina Ricci che chiaramente è responsabile della rivista Savei e quindi ci occupiamo con Savei chiaramente di testessile, filature, siamo nell'ambito insomma. Diciamo che Savei è una rivista storica che racconta la storia del Piemonte e del Torinesi quindi ho scritto un articolo sulle caterinette e la realtà attuale deriva da una realtà di fine ottocento e inizio novecento in cui già erano presenti fortemente la presenza femminile nelle caterinette che sono state anche una forza verso l'emancipazione, sono state delle caterinette i primi scioperi di inizio novecento per ottenere le otto ore e da lì il cambiamento di quella che è la visione femminile della società. Quindi per il momento solo articoli e non ancora racconti, ci siamo vicini diccelo, da quel sorriso lo capisco. Allora ho iniziato diciamo così la collaborazione con Savei grazie a Lidia Poet di cui è stato edito un libro da Grafot Editori e Lareditori nel 2022, quindi quello è stato il primo passo.